Niente etichette nuove sulla tessera elettorale per i bassanesi iscritti nelle sezioni 1, 2, 12, 13 e 39 che voteranno alla scuola Vittorelli anziché alla Mazzini, temporaneamente inagibile. Lo conferma dopo un consulto con gli uffici l'assessore Mariano Scotton. Per quanto riguarda i seggi ovviamente della Mazzini che sono trasportati alla Vittorelli stiamo facendo una forte comunicazione capillare nel senso che stanno distribuendo i manifestini di informazione a tutte le vie interessate al cambio di seggio. Ovviamente sono a 30 metri quindi basterà spostarsi di 30 metri per andare nel seggio previsto. Intanto l'Ulss 7 Pedemontana ha annunciato lo screening gratuito e volontario per i componenti dei seggi elettorali. I tamponi rapidi si potranno fare venerdì 18 e sabato 19 nei 5 ambulatori già attivati all'ospedale di Bassano, a Marostica, Centro Prospero Alpino, all'ospedale di Sant'Orso, a Schio, Casa della Salute, infine all'ospedale di Asiago. Lo screening sarà con accesso diretto dunque senza prenotazione.